5 minuti ho dovuto mi attirare più o meno solo che vedevo che continuava a tirare non mi sono fidato ho messo tutto il reperto ultimo sono venuto su non riuscivo inizia a prendere ho detto questo po' guarda come tira ho messo dire 20 se l'ho messo atto per atto ho i tavoli lì davanti ok 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 ok